Mi sono sentita sprofondare giù a destra. Ho sentito un gran botto, rumore di ferri e di vetri che si spaccavano. Mi sono accorta che la macchina era in bilico. 9 ottobre, domenica mattina, sono le 6.40. Alessandra Saccato sta tornando da Novara. Ha appena accompagnato la figlia alla navetta per il lavoro. Mentre attraversa il cavalcavia 25 aprile ne crolla una parte. L'auto resta incastrata nella voragine, in bilico. Ho cercato di tirar giù i finestrini e non scendevano. Le portiere non si aprivano. Cercavo il telefono che avevo appoggiato sul portatelefono, ma è caduto, non lo trovavo. Ho cercato con i pugni di spaccare il vetro. Urlavo, aiuto, aiuto, e ho cominciato a suonare il clacson. Alessandra resta bloccata nell'abitacolo. Teme che la sua auto possa precipitare da un momento all'altro. Ha paura di morire. È in quel momento che un automobilista che si è fermato pochi metri dopo il crollo si accorge di quello che sta succedendo. Potevo non essere qua a raccontarlo, soprattutto se non c'era quel ragazzo. Azzedina Iani, di origine marocchina, residente in Italia da oltre 20 anni, sta guidando davanti alla macchina di Alessandra quando sente la sua vettura sbandare. Pensa di aver bucato la ruota, si ferma, scende a controllare. Ho visto la luce, solo la luce della macchina di Alessandra. Caracchino, sono andato a vedere che cosa c'è, perché c'era tutto il buio, con la pioggia non si vede niente. La signora ha cominciato a clacsonare con il clacson. Non ci pensa due volte, corre verso l'auto di Alessandra. Piove a dirotto, l'asfalto sta franando, rischia di crollare giù anche lui. Sotto non c'è niente sotto. Anche quello è un pericolo. Però in quel momento io non ho pensato per niente di pericolo. Coraggio per andare a aprire la macchina. Hai visto la macchina come era? La macchina l'ho aperta così la porta e l'ho data perché lei non riesce a... No, l'ho data la mano e lei mi ha aiutato per uscire. Alessandra è salva, riesce solo a dirgli grazie. Lui le presta il telefono per avvisare suo marito. Poi arrivano le forze dell'ordine, i soccorsi la portano in ospedale. Il peggio è passato, ma lei vuole parlare con il suo angelo custode, così lo definisce. Sul telefono del marito è rimasto impresso il numero di quello sconosciuto che le ha salvato la vita. Lui ha detto io ho fatto il mio dovere, fa quello che avrebbe fatto chiunque. Gli ho promesso che ci incontreremo sicuramente per berci un caffè. E quell'incontro è effettivamente avvenuto e questo è un abbraccio meraviglioso che sono convinto che Alessandra non dimenticherà mai. Il nostro Luca Forlani era lì quando lei, dopo i messaggi, le telefonate e dopo il miracoloso salvataggio, ha rincontrato quest'eroe che si chiama Azzedin. Guardate. Buonasera. Ciao. Grazie. Come stai adesso? Bene, grazie. Prego, prego, figurati. Grazie. Figurati. Lei è sua moglie. Sì, è un piacere. Questa è la signora. Mi devo la vita. Posso riabbracciarlo? Certo. Certo. Io sono qua grazie a te. Almeno non ho fatto niente, è solo il mio dovere. Alessandra, senti che emozione vederlo di persona, no? Che tu eri da domenica mattina. Io ho visto solo il cappuccio della felpa rossa. Io non l'ho neanche guardato in faccia. Pio viva! Ho visto arrivare questo cappuccio rosso. Dico la verità, non l'ho guardato in faccia. Neanche quando ha preso il telefono. Io se dovevo vederlo in giro non l'avrei riconosciuto. Però veramente, come ho detto tante volte, chi è che c'era in giro alle sei e mezza di mattina in una domenica piovosa così, lui? E sei contento di vederla ora che sta bene? Sì, sì, certo, certo. Anche io oggi l'ho mandato un messaggio, gli ho detto come stai adesso, sei meglio? Beh, lui ha visto dove abito. Mi daranno l'indirizzo, lui e sua moglie, andiamo a trovarli e devono farmi il couscous e il pane arabo. I vostri figli penso che siano fieri del papà che hanno, che non si è girato dall'altra parte.